Presente il dottor Giuseppe Forlani, prefetto di Palermo, il comandante Giovanni Cataldo e il generale di brigata Arturo Guarino, comandante provinciale di Palermo. Nel corso della celebrazione ha avuto anche luogo la consegna delle ricompense ai carabinieri che si sono maggiormente distinti nell'attività di servizio. In particolare nel mese di luglio 2019 tre militari delle stazioni di Termini, Imerese e Caltavuturo hanno salvato la vita di un giovane mentre tentava il suicidio. A marzo 2020 i due militari della stazione di Altofonte riuscivano a intercettare e fermare un furgone che ad alta velocità aveva perso il controllo mettendo in pericolo gli automobilisti nella strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Nello stesso mese cinque militari della stazione di Roccamena hanno salvato una donna anziana nella sua abitazione in fiamme. Il mese scorso quattro militari della stazione di Roccamena tramite le manovre di primo soccorso hanno salvato la vita ad un uomo privo di sensi che aveva tentato il suicidio. Il mese scorso quattro militari della stazione di Roccamena tramite le manovre di